Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese Siamo in compagnia di Fabio Aquilini Responsabili del Movimento Civico Italia del Rispetto Siamo qua perché so che lo scorso 29 maggio Il direttivo proprio dell'Italia del Rispetto Si è riunito ed ha preso una decisione molto importante Per il futuro del Movimento Ecco, ci vuole raccontare qual è questa decisione Sì, buongiorno Dunque, vorrei partire da questa considerazione L'Italia del Rispetto è sempre stata considerata fino adesso E anche nella presentazione delle elezioni per la città di Voghera Una lista civica Ma credo che ci sia una grossa differenza tra una lista civica e un movimento civico La lista civica è un qualche cosa che nasce per un'idea, per una situazione E poi finito potrebbe anche smettere L'idea invece del movimento civico del rispetto Non è una lista civica ma un movimento Ma perché c'è di dietro una filosofia C'è un obiettivo Che è, nel nostro caso Di recuperare il valore del rispetto attraverso la politica Quindi su questa base di ragionamento Finito tutta l'esperienza di Voghera Con il direttivo abbiamo ritenuto e abbiamo deciso Di incominciare un percorso fin da subito Per portare la nostra esperienza ideologica e del simbolo Anche per le prossime elezioni comunali in provincia di Povia Ovviamente con semplicità e umiltà Questa esperienza è presentata a quei piccoli comuni Dove ci sono realtà piccole e dove sono proporzionate anche la nostra identità Avete già pensato a qualche comune in particolare oppure non ancora? No, 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 vedremo quando sarà il momento Quali saranno i comuni che si presenteranno Nel frattempo cercheremo di espandere anche Quindi fuori di Voghera questo tipo di conoscenza nostra Di progetto e tutto E qua invito appunto le persone che si riconoscono su due motivi Uno appunto dentro se stessi il valore del rispetto E seconda cosa gente che non si riconosce in nessuna ideologia partitica Ma si riconoscono semplicemente nei confronti dei cittadini Quindi il suo è anche una sorta di appello La mia, grazie alla vostra televisione La mia è un appello appunto a tutte queste persone Che ci vogliono dare una mano su questo progetto Grazie Grazie a voi